da che mondo è mondo le credenze dell'uomo e della donna sono state fondamentali per una riuscita della personalità dobbiamo sapere che intorno a noi abbiamo un spazio vitale che si aggira su un metro quando noi facciamo l'allungamento dei clienti ci fanno entrare nel loro spazio vitale ma attraverso la confidenza che andiamo a creare con le domande aperte per capire chi abbiamo di fronte a